Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Questo è il sogno, ora ne daremo l'interpretazione al re. Quindi Daniele è riuscito dal potere, dalla forza di Yahweh nel nome di suo figlio Yahweh Shai ad avere questo sogno, a dare questo sogno al re. E ora vuole dare l'interpretazione che andremo a vedere una volta e vedremo l'interpretazione e che cosa ha a che fare con la storia del passato e i tempi che viviamo giorno d'oggi. Ok, e inizio leggendo. Tu, oh re, sei il re dei re, a cui Dio Yahweh del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie, le campagne e gli uccelli del cielo e ti ha fatto dimorare sopra tutti loro. La tezza d'oro sei tu. Perciò, ora andiamo a vedere questa statua che ho messo via qua. Ecco, questa è la statua che ha visto il re Nabucodononzo che di qui abbiamo parlato prima e parlava della testa, la testa d'oro. Scusate che è in inglese ma vi lo spiegherò. La testa d'oro, perciò questa testa d'oro era il re Nabucodononzo, il re della Babilonia. Qui, se vedete, c'è una piccola immagine sua e parla proprio dei tempi. Il re Nabucodononzo ha distrutto il Gerusalemme, si legge questo nel secondo re, dal capitolo 25, versetto 21, dal 5, 97 prima di Cristo. Ok, e ha avuto un figlio che si chiamava Belshazzà. Ok, Belshazzà ha chiuso il regno, ok, in 5, 39. E questa è tutta un'altra lezione per vedere questi tempi qua. E si trova comunque in Daniele 5. E' molto interessante come è finito questo re Nabucodononzo. Ma oggi non andremo a toccare là, toccheremo solamente questo sogno qua che è la statua. Perciò questa testa d'oro rappresentava il regno del re Nabucodononzo. Ok, torniamo alla lettura. Scusate che deve sempre fare questa cosa qua. Eccoci. E siamo qua. E dice La testa d'oro sei tu. Dopo di te Sorgerà un altro regno inferiore al tuo. Poi un terzo regno di bronzo Che dominerà sulla terra. Poi vi sarà un quarto regno Forte come il ferro poiché Anzi, prendiamoli una volta. E dice Dopo di te Sorgerà un altro regno inferiore al tuo. Poi un terzo regno Anzi, guardiamo questo regno Che è risolto Dopo il re Che Scusatemi Qui abbiamo visto Che la testa è d'oro Ok Che era Rappresentava il re Nabucodononzo E dice Che dopo di lui Ci sarebbe stato un altro regno Inferiore Come la gente è inferiore a loro Vedete Questo regno È il regno dei Medi e Persiani Ok E infatti Vedete Ha a che fare con due braccia Cioè Questa è molto È un significato Che sono due braccia Medi e Persi Erano due regni diversi Che si sono messi insieme No E questo regno Era guidato da Ciro Ok Che ha conquistato La Babilonia Le 539 Prima De Cristo Ok E vi faccio vedere un attimo Come era questo regno Come era questo regno qua Avete visto I Medi I Medi Anzi I Persiani Sono quelli dell'Iran Che conosciamo ad oggi Sono iraniani Ok Ok Nell'antichità si chiamavano I Persi Ok E i Medi Erano figli Descendenti De Japheth De Japheth Era tra uno dei tre figli Di Noè Ok E erano un popolo Scura Di carnagione E anche i Persi Erano un popolo scuro Di carnagione Ok E Ciro Il grande Come vedete qua Nel 530 Prima di Cristo Ha conquistato Tutti questi due Regni Ed è diventato uno Ok Ecco perché abbiamo Due bracci Ok Che rappresenta I Medi E i Persi Ok Andiamo avanti Aveva detto Nel sogno Che di qui dopo Ci sarebbe stato Un altro regno Anzi Torniamo alla lettura Dice Dopo di te Sorgerà un altro regno Inferiore al tuo Poi un terzo regno Di bronzo Che dominerà Sulla terra Ok Dice che questo regno Avrà dominato Sulla terra Andiamo a vedere Che regno è Ed è il regno Del bronzo Il regno Di Chi altro Alessandro Magno Ok La storia di Alessandro Magno Come conoscete Tanti Ok Come ci hanno Raccontato Ora Vi racconterò Un po' Lui è andato In potere Dal 331 331 Avanti Cristo Prima di Cristo A 16 168 Prima di Cristo Ok Perciò Andiamo Alessandro Alessandro Il grande Era comunque Un'edomita Il suo regno È molto importante Infatti lo chiamano Alessandro il grande Ma non è che Non è che si chiamava Alessandro il grande Coloro che hanno scritto La storia oggi Sono coloro che lo chiamano Alessandro il grande Era Lo chiamano Alessandro il grande Perché era il momento Di cui è entrato in potere I figli di Esau Che vi ho sempre parlato Nei video precedenti Ok I figli di Esau Lui è un descendente Dei figli di Esau Quelli della carnagione Chiara Ok Beh Comunque Il colore non c'entra A giorno d'oggi Perché I figli di Israele Si sono miscolati Con tutte le nazioni E sono diventati Come loro Perciò Ci saranno Israeliti Bianchi Bianchi come latte Come ci saranno Anche Israeliti Scuri Scuri Ok Andiamo a leggere C'è un libro Nelle scritture Che sono stati tolti Io Qui con me C'ho Una Bibbia Molto importante Lo ritengo Una Bibbia Molto importante E' la versione Del re Giacomo Della King James Del 1611 Ok Questa scrittura E' molto importante Perché A parte La sua antichità Molto importante Perché contiene Dei libri Che Sono stati filtrati Dopo E tolti Dalla Bibbia Perché Questi libri Contengono Delle informazioni Molto importante Che i figli Di Esau Hanno deciso Di eliminare Questi libri Dalla Bibbia Ok In alcune scritture Italiane Si possono trovare Ma sono limitati Non sono completi E andiamo a vedere Io qui C'ho Ecco qua La King James Ok La versione Della King James Ok Che ha Avete visto Questi libri Inclusi Che sono Il primo libro Di Esdras Il secondo libro Di Esdras Tobit Giudit Adizioni Adizioni Al libro Di Esther La Sagesta Di Salomone Esclesiasticos Baruch Lettera Di Geremia Comunque Il libro Che andremo A vedere Qua È il primo Maccabeo Che Il Maccabeo Si trova In alcune Alcune letture Italiane Ma Comunque Sono Limitati Ne ho visto Un po' Non sono Completi Andiamo a leggere Comunque Dal primo Capitolo Che è molto Importante Perché è molto Importante È il momento Di cui Alessandro Il Grande È entrato A potere Così riusciamo A capire Di chi è Da chi Sono Gli Edomiti Ok Perciò Io Questo versetto Ho preso Fino Al versetto Mi sa Fino Al versetto 9 Ok L'ho preso Fino Al versetto 9 E sono Andato A tradurlo Che si trova Qui Così riesco A leggerlo In italiano Ed è abbastanza Tradotto Bene A parte Qualcosa Sì Che poi Leggo io Ecco E avvene Libro di Maccabeo Ok Capitolo 1 Versetto 1 Il primo Maccabeo E dice E avvene Vedete Qui sotto Troverete Cipro Ede Ketim Infatti Le traduzioni Di giorno D'oggi Avete visto Che hanno Poi Pian pianino Hanno cambiato Il nome Dei paesi Non li hanno Lasciato Come erano Una volta Li hanno Cambiato Per nascondere Tutta questa Verità Del padre Iahawa Chi sono Chi Sono I Assiri E tutto Cioè Hanno nascosto Tutto Hanno nascosto Tutto Comunque Questa Conoscenza Attraverso Lo spirito Santo Che si chiama Nell'antico Ebraico La Rukah Quedash Abbiamo Questa Conoscenza Di nuovo Attraverso I nostri Apostoli Della Great Mewstone Che andremo Poi a Parlare Di chi Sono Ok Andiamo Avanti Alla Lettura E avvenne Che dopo Che Alessandro Figlio di Filippo E Macedone Uscito Dal paese Di Chetim Cipro Aveva Sconfitto Dario I re Dei Persiani E dei Medi Che Regnò Al suo Posto Regnò Qua Che No Togliamo E che Ok Regnò Al suo Posto Il primo Sulla Grecia E fece Molte guerre E vinse Molte Fortezze E uccisero I re Della Terra Qua I figli Di Esau Sono Venuti In Potere Sono Venuti Al Potere E Loro Primo Era La Grecia Ok Infatti Si dice Il giorno D'oggi Quello Che Ci Insegnano E che Lo Sviluppo È Venuto L'evoluzione Lo Sviluppo E tutto È Venuto Dalla Grecia Ok Non È Vero Che È Venuto Dalla Grecia C'erano Stati Altri Regni Più Importanti Prima Della Grecia Ok Vedete Che Loro Si Si Vantano Per Queste Cose Qua Grecia L'acqua Alessandro E Da Grecia È Nato Tutto Il Resto È Dalla Grecia Che È Nato La Roma E Tutto Ok Comunque Andiamo Avanti A Leggere Ok E Fece Molte Guerre Vinse Molte Fortezze Uccisero Il Re Della Terra Ok Primo Maccabeo Andiamo Continuiamo Andò Fino All'estremità Della Terra E Prese Bottino Di Molte Nazioni Tanto Che La Terra Era Quieta Davanti A Lui Dopodiché Fu Esaltato E Il Suo Cuore Fu Innalzato Infatti Va Bene Andiamo Avanti A Leggere Poi Farò I Commenti E Radunò Un Potente Esercito Forte Governò Paesi Nazioni E Re E Divennero Suoi Affluenti E Dopo Queste Cose Si Amalò E Si Rese Conto Che Doveva Morire Pertanto Chiamò I Suoi Servitori Quelli Che Erano Onorevoli Ed Era Stato Allevato Con Lui Fin Dalla Sua Giovinezza E Aveva Diviso Il Regno Tra Loro Mentre Era Ancora In Vita Infatti Se Andate A Vedere I Film Di Alessandro Io Ho Visto I Film E Si L'ha Riuscita A Capire Che Hanno Preso I Film Dalle Scritture Ho Preso Da Questa Scrittura E Hanno Fatto I Film Infatti Aveva Quattro Più O Meno Quattro Che Erano Molto Vicino A Lui Che Andremo A Vedere Chi Sono Poi Ok E Come Hanno Diviso Il Suo Regno E Andiamo Avanti Leggendo Così Alessandro Regno 12 Anni Così Alessandro Regno 12 Anni E Poi Morì Ha Regnato Poco Il Padre Ha Dovuto Togliergli La Vita Perché Era Una Radice Di Esau E Si Vedrete Il Motivo Perché I Suoi Servi Governavano Governavano Ok Ciascuno Al Qua è il punto più importante E dopo la sua morte Tutti si messero Delle corone Così fecero i loro figli Per molti anni Dopo di loro E i mali Si moltiplicarono Sulla terra Questo è L'importanza Di questo libro qua I mali Si moltiplicarono Sulla terra Quando I figli di Esau Sono andati In potere I mali Si moltiplicarono Sulla terra Ora Torniamo Alla statua Vedete Questo è il regno Di Alessandro Grande Ok E Alessandro Grande Aveva Quattro Generali Che Tra l'altro C'è un'altra Lezione da fare Sempre sul libro Di Daniele Capitolo 7 Che va in profondità Queste cose qua E questo sarà Una lezione Per dopo Comunque Che parla Di stessa Stessa cosa Ma questo è il sogno Che ha avuto Invece Daniele Che va proprio A toccare Tutto Tutto Questi quattro regni Detali Di questi regni Comunque Alessandro Di grande Aveva Quattro Generali Che Erano Cassander Ok Ptolemy Ptolemy Seleucius E Questo non riesco A ricordarmi Il nome Comunque Vi lo troverò Comunque E Questo mi ricordo Ptolemy Era lui Che È stato Nell'Egitto Che ha governato In Egitto Ok Cassander È quello che Ha governato Macedonia Grecia Poi Ha creato Roma E tutto il resto Ok E Liussi 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 Ok Ha preso Asia Minore Ok Ha preso Asia Minore E E Seleucius Ha preso Persia Ok Ha preso Persia Ecco perché L'ha Hanno dominato Hanno cambiato Il colore Le razze Della gente Hanno cambiato Un